Beni per un valore complessivo di 220.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza Giuseppe Vasta, attualmente detenuto nel carcere di Agrigento. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Etneo che ha interessato il bar Rocher, con sede a Catania, in via Quicella e altre disponibilità finanziarie. Vasta era già stato condannato due volte nel 2016 e nel 2018 dal Gup Etneo rispettivamente per detenzione, spaccio di sostanza stupefacente e porto di arma clandestina. Sempre il Gup di Catania aveva disposto la custodia cautelare in carcere per la sua partecipazione a una ramificata associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti. In particolare l'operazione Shoes, coordinata dalla Procura Etnea e condotta dalle unità antidroga del nucleo PEF della Guardia di Finanza, aveva portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 25 persone indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, cocaina marioana, ash, shekrak, aggravata dalla finalità di agevolare il clan mafioso Santa Paola Ercolano e dalla detenzione di armi. Durante le indagini in più occasioni erano stati sequestrati 4 kg di cocaina, 52 di marioana e 25 kg circa di ash, shekrak. Le indagini hanno permesso di accertare la sproporzione tra il profilo reddituale del nucleo familiare di Vasta e il complesso patrimoniale composto da un bar a Catania, formalmente intestato alla moglie dell'uomo, oltre che da disponibilità finanziarie costituite da conti correnti accesi presso vari istituti di credito. In particolare i due coniugi, a fronte di redditi pari a zero, hanno effettuato rilevanti investimenti per l'acquisto dell'attività commerciale, alla cui inaugurazione, come emerge dall'operazione Shoes, ha anche partecipato il reggente del clan Cursoti di Catania.